Una corsa per difiato, qualcosa a metà tra una gara di resistenza alla velocità ed una di mezzo fondo. Otto partite in 40 giorni non sono cosa di poco conto e richiederanno capacità di essere sempre brillanti, lucidi, reattivi, al tempo stesso attitudine alla resistenza e al veloce recupero dalle fatiche in tempi brevi. Anche per questo la possibilità di avere più calciatori a disposizione intriga Davide Nicola che, dinanzi all'abbondanza, non storce il muso. Anzi, contro il Sassuolo sarà una partita molto difficile, non solo per il consolidato ed acclarato valore degli emiliani, ma anche perché sarà la prima dopo lo stop di due settimane. Il 9 ottobre si tornerà alla Rechi per affrontare il Verona, squadra che corre tanto e che usa molto il fisico. Poi alla scala del calcio per sfidare l'Inter al Meazza ed ancora un altro insidioso impegno interno con lo Spezia di Gotti. Ottobre si chiuderà con la trasferta dell'Olimpico contro Lazio di Sarri. A novembre, ecco la Cremonesi alla Rechi prima della doppia trasferta di Firenze e Monza, con cui la Sertana assoluta era il 2022. Sì perché, complici mondiali in Qatar, la Serie A tornerà in campo solo ai primi di gennaio, quando campo e mercato torneranno a incrociare le prove rotte. Ed a proposito di mercato in chiave 2023, la Sertana monitora diversi centrocampiste. Il belga Raskin è un obiettivo, il finlandese Camara potrebbe essere un'opportunità a determinate condizioni. Occhi anche su fagioli della Juve ed esposito della SPAL. Per generare la proprietà di infoltire la mediana, anche perché qualcuno potrebbe partire capezzi l'indiziato principale.